Ebbene, vi ricordate anche qui abbiamo parlato del sogno dell'onirico secondo gli antichi egizi, quindi che cosa rappresentava l'incubo e quindi il mondo onirico per l'antichità. Antichità e non solo, quindi dall'antico Egitto poi un escursus più generico. Ebbene, ne abbiamo parlato con un carosello per l'appunto su Instagram, con un video su YouTube e volevo soffermarmi un momentino sul Serpente di Luigi Malerba, perché e non solo, per quanto riguarda appunto il sogno, ma anche su un altro libro, sempre di Malerba, ovvero Il Plagio. Nel Plagio, cito direttamente dal testo, dice Quando dico che l'ho sognato, significa che ho vissuto quella vicenda come vera, che quella vicenda è entrata a far parte della mia esperienza. Quindi qui ci sta dicendo che l'autore del racconto afferma quello che ha visto e quello che ha vissuto. E quindi non è un racconto di fantasia uscito dalla penna dell'autore e tutto quanto, ma è un'esperienza vera. Quindi qui ci sta dicendo che Malerba ha una percezione del sogno come un'altra possibilità di agire e di fare esperienza, come se fosse appunto un'altra realtà su cui soffermarsi e non una cosa, tra virgolette, inventata. Quindi un fatto vero, dice, perciò esita a mettere la propria firma. Nel senso che l'autore, vediamo per esempio nel Plagio, l'autore in prima persona racconta la propria vita, fino alla decisione di scrivere il racconto. Quando scopre che per l'appunto tutte le altre storie sono scritte da altri e quindi crede che la propria scappatoia sia raccontare e esporre i propri sogni, che sono esperienza vissuta, personale e quindi non scritta da altri, per forza, perché un sogno è sempre soggettivo. E poi c'è il concetto di sogno dentro al sogno, sempre nel Plagio. Quindi non vero proprio racconto in stile matrioska, scatole cinesi. E poi sul serpente c'è da dire l'atteso, l'inatteso, soprattutto l'attendibilità di quello che ci viene raccontato, perché dal momento che questa è la versione che ho io, è sempre un gioco di specchi, quindi costruzioni e decostruzioni. Abbiamo delle fratture e non tutto è lineare, e quantomeno appunto vi sono delle contraddizioni al suo interno che lasciano il lettore come un pesce fuor d'acqua fondamentalmente. Ma questo è l'intento che aveva appunto Malerba. Quindi nei meccanismi costruttivi e di costituzione del testo abbiamo una visione per l'appunto molto singolare, ovvero quella di Malerba che ci introduce nel mondo dei sogni e dell'onirico secondo lui, come se l'onirico non è un'esperienza vera, ma al tempo stesso non è un racconto. Quindi nel momento in cui tu la racconti, in realtà stai semplicemente esponendo una tua visione di una vicissitudine che è realmente accaduta. Grazie. Grazie. Grazie.